Quando si parla dei anni 80, quando facevo molto nuda i miei spettacoli sul palco. Ah, perché tu ti spogliavi? Completamente, sì, con tutte le posizioni sul palco. Era talmente bella. Anche serpenti aveva. Ma anche colombe bianche. Un giorno purtroppo mi è capitato, ero in un locale dove il serpente se l'ha accorto, eppure il mio serpente è pitopito. Ma è morto, pitopito? È molto pitopito, sì, da tempo. Ma l'hai seppellito? L'ho seppellito, sì. Comunque se l'ha accorto del mio stress nervosismo, probabilmente perché ero stanca, quando il serpente si è accorto del mio stress e improvvisamente ha fatto con la bocca così, mi ha morso in faccia, io ho tirato via e non me ne sono accorto che come in Rocky Horror Picture Show, che conoscete sicuramente, grande storico, cosa teatrale, insomma, mi scendeva giù tutto il sangue dalla faccia. Pensa, tu dicevi che ti amava, pensa se non ti avessi amato, se non ti avessi divorato. No, sentivo il mio stress, sicuramente quello.